Ciao, benvenute e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come realizzare il dettaglio costruttivo bidimensionale di una casa in legno, di una costruzione in legno anzi. Io partirò dai due pacchetti realizzati per i video precedenti. Questo qui è la parete esterna, come vedete abbiamo fatto il bidimensionale con la relativa tabella con gli strati e i millimetri materiali e il tridimensionale accompagnato anche dall'esploso. Stessa cosa è stata fatta anche per la copertura, anche qui la sezione bidimensionale con il tridimensionale e l'esploso il tutto accompagnato naturalmente dalla tabella con i materiali e i millimetri dei vari strati. Noi adesso appunto io ho importato i due elaborati in un nuovo file e li devo praticamente, il dettaglio costruttivo non è altro che l'attacco parete esterna copertura, li devo semplicemente unire. Ecco fatto, ho finito. In realtà non è proprio così. Questo qui è uno degli errori che viene spesso commesso durante il disegno di questi dettagli costruttivi, si pensa che unendo i due pacchetti si ottenga subito il dettaglio e l'unione, ma in realtà come vedete anche dal tridimensionale non è proprio così. I pacchetti non sono sezionati nella giusta posizione, pertanto questo qui è un esempio di un'unione errato. Altro errore che viene spesso commesso, si dice vabbè se non lo metto, se non si può mettere in alto sicuramente lo posso attaccare sul lato e in realtà come vedete ancora una volta la posizione della parete è errata così com'è quella della copertura. Vedete anche il prospetto frontale, pertanto anche questo qui è un esempio che può considerarsi del tutto errato. Perfetto. Invece vi faccio vedere degli esempi non del tutto corretti perché incompleti, ma sicuramente in questo caso la posizione della parete e la posizione della copertura sono corrette. Vedete che la parete è stata ruotata così come è stata ruotata la copertura. Nel nostro caso la parete e la copertura che abbiamo preso come esempio si presta di più a una falda inclinata, quindi una copertura inclinata, ed è quello proprio che faremo. Noi qui stiamo parlando di una struttura in X-LAM, la tipologia costruttiva. Io come vedete ho già realizzato il dettaglio costruttivo in realtà e vi mostro appunto l'anteprima e gli elementi che vanno aggiunti ai due pacchetti per far sì che l'unione possa avvenire appunto tra la copertura e la parete. L'importante, sicuramente una delle parti più importanti, è l'unione tra le due parti strutturali, quindi l'X-LAM della copertura e l'X-LAM della parete. In realtà esistono diverse soluzioni. Le prime due ce le mostra Promolegno con una delle sue lezioni realizzate da uno specialista del settore. Una terza soluzione l'ho ricavata da una guida per edifici in legno promossa realizzata da Rotoblass. Un'altra soluzione ancora l'ho trovata in un sito, appunto BioCasa Natura, che prevede anche l'aggiunta di un cordolo che fa d'aggiunto appunto tra i due elementi. Io scelgo la prima soluzione, come vedete, è questa qui che ho già applicato, dove avviene appunto un'unione tramite una lavorazione dell'X-LAM della copertura che va ad incastrarsi con quello della parete. Io adesso ho importato i due elementi su un nuovo file e prenderò come riferimento, vi invito sempre ad andare su Data Holes, sulla parte dedicata ai progetti realizzati, prenderò come esempio, ecco questo qui è quello che ho trovato io, prenderò come esempio questo pacchetto qui, questo dettaglio qui, scusate. Data Holes vi fornisce, come sempre, anche il tridimensionale oltre al bidimensionale. Ecco qui, da questo dettaglio costruttivo, io andrò a ricavare gli elementi e andrò ad inserirli all'interno dei miei due pacchetti costruttivi, perché in realtà questi pacchetti utilizzati per questo tipo di dettaglio sono differenti, io quindi li andrò ad adattare alle mie esigenze, quindi ai miei due pacchetti costruttivi della parete e della copertura. Andiamo subito su AutoCAD e continuiamo appunto con la realizzazione. Ecco, questi qua sono i file che ho importato, vado a spegnere subito i layer che non mi interessano, quindi le quote e le tabelle, vado a creare una copia dei due pacchetti costruttivi iniziali e vado a spostare il pacchetto della copertura e come prima cosa vado a realizzare la giusta sezione, quindi la sezione 2D corretta della parete esterna. Vi ricordo che questa sezione qui che abbiamo adesso del pacchetto è una sezione orizzontale, quindi è come se fosse vista dall'alto. Quando invece a me serve, essendo un dettaglio di un attacco, serve una sezione verticale dei due pacchetti, pertanto devo andarmi a ricavare dalla sezione orizzontale gli elementi che mi servono. Io ho realizzato, anche qui vi consiglio andare a guardare il tutorial dedicato sui filtri, quindi sulla gestione avanzata dei layer, io ho realizzato dei filtri dove ho inserito dentro tutti i layer che mi tornano adesso utili per la gestione del dettaglio costruttivo, appunto per la realizzazione del dettaglio costruttivo. Ho aggiunto anche un nuovo layer, linee di costruzione, così come altri layer per gli elementi che poi vedremo tra poco. Io vado subito a selezionare appunto linee di costruzione e non devo fare altro che andare a fare una vera e propria sezione, come se fosse una pianta da sezionare, come diciamo come facciamo anche le sezioni dei progetti, vado a fare una vera e propria sezione del pacchetto costruttivo della parete. Quindi tramite, con l'utilizzo del layer, linee di costruzione, vado a realizzare, vado a disegnare, vado a spegnere il layer dei retini dell'isolante che possono dare fastidio, vado quindi ad alleggerire il disegno e poi con il comando raggio vado a riportare tutti gli elementi che è la mia linea di sezione incontra e vado a riportare verso l'alto dove andrò appunto a fare invece la sezione verticale. Qui incontro appunto gli elementi strutturali, l'isolante, il pannello mdf, il rivestimento esterno e l'interno. Perfetto. Una volta fatto questo non rimane che tagliare i raggi che vanno oltre la seconda linea tratteggiata e vado subito a spostare i layer, i due linee esterne, il rivestimento interno ed esterno nel layer apposito che è stato, diciamo, che è stato appositamente creato. Vado a fare la stessa cosa anche per gli altri elementi, spostare l'isolante, vado poi a spostare il pannello mdf, quindi distanziatori, vado a spostare poi la parte strutturale, quindi l'XLAM. Ecco qui, attenzione alla rappresentazione dell'XLAM. Se nel pacchetto orizzontale, quindi questo qui, questo dall'alto, ho messo le teste di queste tavole, vi ricordo appunto come tutti sappiamo che l'XLAM è composto diciamo da tavole incollate in senso incrociato. Pertanto, se io nella parte orizzontale vedo queste teste, nella parte invece della sezione verticale andrò a vedere le tavole trasversari rispetto appunto a quelle che vedo nel pacchetto orizzontale. Vado poi a riportare anche gli elementi nascosti, ho fatto, anzi vado a fare adesso un layer apposta per gli elementi e gli elementi nascosti. Perché nascosti? Perché mentre nella sezione orizzontale vedo questi elementi, nella sezione verticale non vedo alcuni elementi come ad esempio i distanziatori che sono dietro il materiale isolante. Quindi faccio un layer apposta, metto magari il colore bianco, lo attivo per la stampa, metto il tratteggio, spessore va bene 0.00. Io come vedete ho una gestione molto dettagliata dei layer ma ciò vi assicuro che può aiutare tanto soprattutto quando si ha a che fare con progetti più complessi e quindi con tanti i layer. Vado a fare appunto, a posizionare queste linee nel giusto layer che ho appena creato, stessa cosa vale per questa qui, no? Perché è un distanziatore, lo vedo, mentre queste qui non le vedo, quindi vado a metterle negli elementi nascosti. Perfetto, vado a tagliare le linee in più e si può dire che ho già ottenuto la struttura della sezione verticale del mio elemento. Adesso vado a isolare il gruppo degli elementi dei dettagli e vado a cancellare le linee che erano rimaste dei raggi che ho fatto per ricavare appunto la sezione. Vado a riattivare tutti i layer, vado a vedere tutte le geometrie che sono presenti all'interno del mio spazio modello e non devo fare altro adesso che riportare i retini del materiale isolante della sezione orizzontale, li devo riportare anche dentro la struttura della sezione verticale. Quindi vado a fare semplicemente un copia e incolla, partendo dal basso, vedete perché qui le teste di quei listelli lì, io nella sezione verticale naturalmente non li vedrò anche perché sono, naturalmente sono ruotate, al contrario, quindi vedo il lato di quei listelli. Inoltre non li vedo per niente perché sono dietro il materiale isolante. Vado a fare ancora un copia e incolla di tutto l'isolante interno della parete. perfetto, vado a tagliare la curva in eccesso. Questo è perfetto così. Vado a fare la stessa cosa per l'isolante esterno. Anche qui mi tocca copiare solo degli elementi perché come l'isolante è interrotto dalle sezioni dei distanziatori. Ecco, vi ricordo che, anzi volevo precisare il fatto che sì, qui stiamo trattando una sezione, anzi un dettaglio di una costruzione con tipologia xlamb. In realtà, questo videotutorial può essere preso di riferimento anche per chi deve realizzare dei dettagli costruttivi di costruzione con tipologia costruttiva a telaio. Perché anche se naturalmente le parti dove andremo a concentrarci saranno leggermente diverse, però il ragionamento, i passaggi da fare sono, diciamo, analoghi, cioè sono uguali. Anche qui vado a fare delle copie del retino dell'isolante esterno, il stesso passaggio. Poi proseguo, perfetto, siamo qui, taglio quello che è in eccesso e proseguo con copiare semplicemente i retini dell'MDF e il retino dell'arice esterno. In realtà, il larice dovrebbe avere, in questo caso, una composizione e una struttura diversa in questa sezione. Ma io per semplificare un po' il lavoro lo lascio in questo modo, perché si tratta di tavole inclinate. Se ricordate bene, le abbiamo realizzate nel tutorial del pacchetto. appunto dedicato, il tutorial dedicato al pacchetto della parete. Perfetto. Vado a spostare i retini che ho copiato dal layer, i retini del pacchetto 2D, li vado ad inserire nel layer corretto che ho realizzato appositamente appunto per i retini del dettaglio costruttivo. quindi vedete che io utilizzo delle iniziali che mi servono poi naturalmente a creare dei filtri all'interno del gestore dei layer, gestore proprietà dei layer, che mi permettono appunto poi di gestire più facilmente tutti i layer. Perfetto, la parete è conclusa. Andiamo adesso a realizzare invece, andiamo a fare praticamente la stessa cosa per la copertura. Anche qui si tratta di una sezione. Quindi andrò a fare una linea di sezione, vado a spostare intanto le linee tratteggiate, le vado a mettere nelle linee tratteggiate del dettaglio costruttivo e non del pacchetto costruttivo. Anche qui si tratta di una sezione vera e propria, quindi qui vado a riportare la linea di sezione e poi con lo stesso procedimento che ho applicato nella parete, con il comando raggio andrò a riportare tutti gli elementi che la mia linea di sezione incontra. Quindi partiamo dalla lamiera esterna, copertura, poi incontro il primo listello, il pannello MDF. Vado ancora avanti con l'isolante, faccio prima la parte strutturale, poi c'è anche una membrana che suddivide l'isolante dalla parte strutturale. Poi vado a riportarmi tutti gli strati dell'XLAM. Ne approfitto per chiarire l'utilità di questo tutorial. C'è per chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, uno degli aspetti che ci tenevo a chiarire è che, come vedete, non vengono trattate, non verranno trattate anche nei minuti successivi, gli elementi metallici per le giunzioni. Qui stiamo parlando solamente di giunzioni degli elementi strutturali, dell'isolante e gli elementi che vengono aggiunti per far sì che l'unione tra due pacchetti differenti avvenga. Per quanto riguarda invece gli elementi metallici, quindi piastre, viti, come abbiamo visto anche prima dal catalogo di Rotoblast, in questo tutorial non vengono trattate. Faremo poi delle lezioni, dei tutorial dedicate a quell'argomento lì. Nel frattempo vado a spostarmi tutti gli strati nei layer che ho realizzato apposta dedicati. Ecco, attenzione, ad esempio, qui c'è una netta differenza tra la sezione verticale e orizzontale, perché quei, innanzitutto vedete che già la lamiera esterna come cambia, come rappresentazione grafica, quei listelli, subito dopo la lamiera, che nella sezione precedente vedevo soltanto il lato, in questo caso invece li vedo di, come si dice, di testa, vedo la sezione appunto del listello. In questo caso mi sono andato ad accertare che fosse appunto la sezione 50 per 30 e così era, come avete visto sono andato nella tabella del pacchetto originale. Vado a tagliare intanto le linee di riferimento in modo, faccio una linea di riferimento in modo da prendere il centro, ho fatto un interasse di 80 cm, quindi 800, vi ricordo che io sto lavorando in mm e li vado ad inserire nel giusto layer, quindi distanziatori. Cancello la linea di riferimento che ho utilizzato prima appunto per i due listelli, questo qui è un l'MDF, quindi lo metto tra distanziatori, questo qui è l'isolante, quindi lo vado a mettere, no scusate, questa qui è la membrana, la membrana che si divide l'isolante della struttura. Dopodiché vado a spostare anche tutti gli strati che compongono la parte strutturale, quindi l'XLAM e stesso ragionamento viene fatto anche qui, in questa parte qui. Vi ricordo anche qui appunto che l'XLAM si tratta di una struttura composta da tavole incollate nel senso opposto, quindi incrociate tra di loro, quindi se da una parte vedo quelle teste in quegli strati lì, in quest'altra sezione vedo invece le tavole poste in senso trasversale rispetto appunto alle prime. Vado a spostare anche queste linee nei layer corretti, questo è l'isolante, è il dettaglio del braccio flessibile che vedo, questo qui in realtà è la lastra antincendio prevista dal pacchetto originale, quindi vado a mettere sui distanziatori, questo qui è il rivestimento esterno, attenzione ho commesso un errore, non è tratteggiata, questo qui ma è sui distanziatori. Distanziatori, eccolo qui, perfetto. Quei listelli lì naturalmente non li vedrò, però anche qui posso essere preciso aggiungendo le linee che non vedo, quindi gli elementi nascosti, in questo caso questo listello tenuto dal braccio flessibile che poi sorregge l'isolante e i due pannelli esterni. Non mi rimane che tagliare tutte le linee in eccesso. Posso anche qui temporaneamente isolare il filtro o spegnere anzi il filtro del pacchetto 2D per cancellare, per pulire tutti i raggi che ho tagliato, i raggi che non mi servono, accendo di nuovo tutto, sblocco di nuovo tutto e posso proseguire col copiare i retini degli isolanti interni nella nuova sezione. In questo caso non ci sono elementi che interrompono l'isolante nella copertura, vado a fare intanto la X nei listelli che ho realizzato, poi lo vado a copiare ed incollare nell'altro listello. Vi ricordo che ho usato un interasse di 80 cm, quindi 800 mm. Vado a copiare appunto il retino degli altri elementi, in questo caso dell'MDF. Ne approfitto nel frattempo per dare alcuni chiarimenti anche in merito al disegno di questi dettagli. Oltre a non trattare gli elementi di giunzione e gli elementi metallici, in questo caso noi non stiamo andando a dimensionare gli strati in base a determinate esigenze. Piuttosto qui il nostro obiettivo è capire come funziona la struttura di un pacchetto costruttivo e come si comporta, quindi per struttura intendo io appunto la composizione dei vari strati, e come si comporta, quali elementi devo utilizzare nel momento in cui la devo andare ad unire ad un altro pacchetto, ad un altro elemento costruttivo, come in questo caso sta accadendo tra parete e copertura. Come sapete in realtà appunto dovremmo andare a dimensionare ogni singolo strato, io penso dei pacchetti già fatti di riferimento, come sapete il sito, la fonte è sempre dataalls.eu. Perfetto, vado adesso a copiare i due retini del cartongesso della lastra antincendio previsti dal pacchetto originale, e si può dire che abbiamo terminato anche la sezione nella giusta posizione, fa anche rima, della copertura. Non mi rimane, attenzione, devo spostare i retini nel giusto layer dpc2d riempimenti. Perfetto, così poi posso disattivare quelli 2D dei pacchetti in modo da rimanere soltanto sul filtro del dettaglio. Perfetto, vado a fare un'ulteriore copia adesso di questi due elementi, vi consiglio di far sempre delle copie per mantenere i lavorati originali intatti in caso di problemi. Vedete, questa qui è uguale, è l'aggiunzione che trovo sia su promolegno e sia su dataalls, vado a trovare questa, non è qui, tra i due elementi strutturali. Ed è subito la prima cosa che andrò a fare. Vado a creare, prima di fare tutti gli altri materiali e gli altri strati, vado a creare l'aggiunzione tra la parete XLAM della, appunto, il pannello XLAM della parete e il pannello XLAM della copertura. Do un'inclinazione di 25 gradi per quanto riguarda la parete, visto che dobbiamo fare una parete, scusate, la copertura, visto che dobbiamo fare una falda inclinata. Vado ad allungare, adesso capirete anche il perché, la linea esterna dell'XLAM della parete e la utilizzo come riferimento per fare, diciamo, un primo avvicinamento, una prima unione tra i due elementi. Prendo come sposto la copertura e la vado ad incollare, appunto, nella linea che ho appena realizzato. Vedete adesso come dobbiamo andare praticamente a modificare tutto ciò che riguarda i due elementi, i due pacchetti. Quindi non era così facile e così semplice come sembrava nei primi due esempi che abbiamo, appunto, catalogato come errori, come, appunto, errori da non commettere. Vado ad utilizzare il comando estendi, molto comodo in questo caso, e vado ad estendere le linee dell'XLAM, delle tavole dell'XLAM, nella linea che ho realizzato di riferimento. Vado poi a disattivare i layer dei retini, un attimo per semplificare anche la vista degli elementi che sto modificando. Vado a disattivare, in realtà, adesso tutti i layer tranne quello strutturale. Perché adesso, diciamo, il punto di partenza è appunto quello di unire le due parti strutturali. Poi tutto il resto lo faremo dopo. Fatto quello, passeremo poi agli altri. altri. Perfetto. Adesso non mi rimane che prendere come riferimento, io ho visto la fonte che la giunzione avveniva al secondo strato, eccolo qui, al secondo strato dell'XLAM della copertura, quindi farò la stessa cosa. Vado ad unire queste due linee, vado a tagliare le linee in più, taglia, passo destro, taglio le linee in eccesso e vado poi invece ad unire, vado a estendi, seleziono l'oggetto, interseca e vado a selezionare i due elementi dell'XLAM, in modo da farli estendere. Vado a copiare una linea che rappresenta la testa dell'XLAM sia della parete che della copertura, in modo da rispettare l'andamento delle tavole previste della struttura e direi che intanto abbiamo realizzato appunto la giunzione tra i due elementi strutturali. Adesso dobbiamo andare ad adattare il resto degli elementi, quindi il cartongesso, il risonante, i vari listelli e tutto ciò che riguarda appunto l'unione, concentriamoci per adesso sull'unione degli elementi interni alla struttura, quindi vado a tagliare questi elementi qua, taglia, tasto destro e seleziono direttamente gli elementi, seleziono anche il tratteggio, vado a cancellare le linee che non mi interessano più, cancella, cancella, vado a cancellare anche questo tratteggio qui che adesso non mi serve più, è il tratteggio del pacchetto e vado poi a unire, col comando se me l'estendi, il cartongesso della parete col cartongesso della copertura. Quindi estendi, seleziono l'oggetto, interseca e vado a selezionare tutti gli altri, tutte le altre linee. Perfetto, quindi sia del braccio flessibile, sinistra, magenta e poi tutte le altre. Naturalmente adesso devo adattare i retini a questa nuova geometrie. Posso semplicemente selezionarli tramite i vertici, li controllo, li vado a spostare nella giusta posizione, vado a fare la stessa cosa col cartongesso della parete. Qui invece il retino, non trattandosi di un vero e proprio retino, di un vero e proprio adesso devo andare ad allungare, ad adattare anzi, il retino dell'isolante della parete, dell'isolante interno della parete. Ne copio in questo caso soltanto uno, copia, incolla, 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 incolla. Perfetto, qui manca ancora un altro semicerchio. Perfetto, adesso vado a tagliare. Ecco. A tagliare e poi a cancellare. Taglio anche quest'altra linea, cancello tutto. Ops, qui mi è saltata una linea. Vado subito a recuperare, vado a fare una copia di quest'altra. Devo ancora tagliare e poi cancellare. Perfetto. Si può dire che la parte interna dei due elementi è stata adattata appunto all'unione prevista dall'attacco parete esterna copertura. Quindi il lato interno si può dire che è stato terminato. Adesso torniamo un attimo al dettaglio di riferimento di DataWall. Vedete che questa membrana non si ferma qui come era previsto appunto dal pacchetto originale, ma va giù andando a coprire l'unione tra i due elementi strutturali in X-LAM. Io la vado ad abbassare di 150 mm, quindi 15 cm, e la vado a chiudere sulla parete. Perfetto. Poi capiremo il perché anche di questa protezione. Questi sono tutti accorgimenti per migliorare la durabilità delle costruzioni in legno. Perfetto. Adesso devo proseguire con la realizzazione degli elementi esterni al dettaglio costruttivo. Per mantenere la giusta inclinazione, la corretta inclinazione, vado a fare una copia della linea, di una delle linee dell'X-LAM e vado a realizzare il primo elemento di giunzione previsto dal pacchetto di riferimento. Per realizzare questo primo, chiamiamolo piccolo, in realtà non è cordolo perché non sopporta nulla. E poi col comando estendi vado ad estendere le linee del pannello MDF per poi invece tagliare le linee in più. Taglio anche queste e la rifaccio con il layer corretto, con il distanziatore. Vado ad adattare il retino alla nuova forma delle pannello MDF. Cancello questa linea che è in più. Adesso farò la stessa cosa anche con l'isolante. Spengo per adesso il retino dell'isolante, poi proseguo con mettere questo elemento nel giusto layer, quindi il distanziatore. Tiro su la linea corrispondenza del pannello MDF e la vado ad unire tramite sempre il comando estendi col pannello MDF della copertura. Faccio un offset, anche qui utilizzo un elemento lineo di spessore 50, quindi 5 cm, vado a tagliare le linee in eccesso. In questo caso si appoggia sull'elemento di giunzione. Naturalmente il primo elemento di giunzione, questo qui, è supportato dai distanziatori qui diciamo riportati dalle linee tratteggiate. I distanziatori sicuramente più visibili nella sezione orizzontale. Perfetto. dovrò adattare anche il retino dell'isolante esterno. Ma prima vado a fare la copia di queste linee, sempre per mantenere la giusta inclinazione, saranno le linee con cui andrò a realizzare il travetto per la gronda, il travetto di gronda. Sono appunto dei travetti che non hanno nessuna funzione strutturale nei confronti della copertura o della parete, se non altro, hanno invece la funzione di creare, in questo caso ho fatto 60 cm, di gronda, quindi di sbalzo, della copertura nei confronti della parete. Vado ad utilizzare il comando perpendicolare, per fare appunto la linea perpendicolare, per chiudere il travetto di gronda. Sempre il comando estendi e lo vado ad intersegare con la linea superiore, poi vado a tagliare in eccesso. Attenzione, abbiamo appena creato un vincolo parametrico, poi magari diremo una lezione anche a questo. Ecco, questi qua sono i travetti di gronda di cui vi parlavo. In realtà, vedete, non si allungano per tutta la copertura, e bensì hanno una lunghezza definita molto più, diciamo, molto più piccola rispetto alla falda. Vado poi ad allungare, ad estendere anche le linee del rivestimento esterno. In questo caso io, anche qui si tratta alla fine di una sezione, ho sezionato l'elemento del rivestimento esterno, in questo caso il travetto si trova dopo, quindi dietro il rivestimento dell'arice. Quindi questo elemento qui in realtà non lo vedo, è un elemento nascosto del travetto di gronda. Vado ad eliminare i vincoli, perché compaiono quelle icone che qui adesso mi danno fastidio, quindi vado ad eliminare tutti i vincoli, ne avevo creato uno appunto, il vincolo della linea perpendicolare rispetto alle linee del travetto. Attenzione, qui trovo una membrana in questo pacchetto, una membrana che va dal, la membrana di facciata che va dal pannello MDF della copertura fino al pannello MDF dietro il mio rivestimento dell'arice. Quindi faccio un offset di 2 mm e li vado poi a spostare le linee, vado a spostarle su, appunto, dpc2d membrane. Vado ad unire le due linee, vado ad ottenere lo stesso effetto previsto dal dettaglio di riferimento di Data Holtz. Questa è appunto una membrana, una membrana poi traspirante prevista dalle, appunto, dalle costruzioni di legno. Vado a terminare il listello che supporta gli altri listelli che a sua volta supportano poi la lamiera nella falda. Attenzione, devo ancora adattare tutti i retini dei vari elementi. Adatto prima questo qui dell'arice. Vado ad adattare poi quello dell'MDF della copertura. E vado poi ad adattare i retini dell'isolante sia della copertura che della parete, l'isolante esterno. Da qui procedo uno a uno, seleziono, copia, incolla, incolla, così via, fino a poi a tagliare gli elementi in eccesso. Perfetto. Faccio la stessa cosa con l'isolante esterno della parete. Anche qui cancello questi due semicerchi incompleti, piuttosto ne prendo due originali. Attenzione che ho isolato il layer dei retini per gestire, facilitare e velocizzare questa operazione di copia ed incolla. Taglio anche qui in corrispondenza dell'elemento di giunzione che interrompe l'isolante. Perfetto. E vado poi, infine, a cancellare gli elementi che sono rimasti dopo il taglio. E qui manca un semicerchio, lo incollo e poi lo taglio. Perfetto. Toglio anche in corrispondenza della membrana. Per essere proprio precisi. Anzi, precisissimi. C'è veramente più. Perfetto. Ecco qui. Come vedete, il dettaglio inizia a prendere forma. Inizia ad avere una struttura sicuramente funzionale. Ok. Ok. Riattivo tutti i layer per modificarli. Quindi, vedete che quando riattivo i layer, anzi, quando vado ad isolare un layer, tutti gli altri layer diventano più scuri rispetto al colore originale. Quindi, lascio un po' di spazio tra il rivestimento e questo primo listello. Questi listelli qui, come vedrete, dovranno essere più grandi, perché dovranno supportare la lamiera della copertura della falda, che io adesso vado ad allungare, mantenendo la stessa inclinazione. E vado poi ad adattare il listello, la distanza appunto tra il travetto di gronda e la lamiera della falda. In questa cosa faccio un interasse di 300 mm, quindi 30 cm, faccio un copia e incolla 300, poi un copia e incolla 600 e aggiungo un ulteriore elemento di chiusura dell'intercapedine di aria prevista da questa parete. Questi elementi di chiusura sono fondamentali per non permettere ad eventuali animali, uccelli e altri tipi di animali, insetti, di entrare all'interno dell'intercapedine d'aria prevista dalle coperture ventilate. Vado con il comando estendo e vado ad estendere il profilo della lamiera, taglio. Ecco, di solito, quello che vi dicevo, di solito questi elementi di chiusura sono delle vere e proprie griglie delle reti in ferro, in acciaio, appunto per chiudere l'intercapedine d'aria, in modo da non compromettere però comunque il circolo d'aria. Quindi sono degli elementi che lasciano di filtraggio, diciamo, dell'aria, lasciano comunque passare l'aria. Io ho esagerato, ho dato lo stesso spessore dei listelli, in realtà potrebbe avere uno spessore molto più ridotto, va bene così, però vado piuttosto a inserire un retino differente, perché non si tratta di un listello. Inizio a inserire questo tipo di retino qui, vado ad adaltare la scala, vado a ruotare leggermente anche il retino, vado a fare un angolo di 25, perfetto. Perfetto, non manca altro che la grondaia, per terminare il dettaglio costruttivo. Per realizzare la grondaia faccio semplicemente un elemento grafico che la rappresenti, ho fatto un layer già apposta, appunto, di PC2D grondaia, vado a fare un cerchio con due punti, faccio un diametro totale di 200 mm, quindi 20 cm, vado poi a fare un offset esterno di 5 mm, vado poi a fare una linea da un'estremità all'altra del cerchio, prima lo vado a spostare, fare una linea dell'estremità all'altra del cerchio, quindi tagli tutto il diametro del cerchio, infine il comando taglia, taglio le linee in eccesso, taglio questa, taglio queste linee, questa la devo cancellare, elimino questa linea qui, ecco fatto praticamente anche la grondaia. E qui direi che i due pacchetti sono stati uniti con successo, il dettaglio costruttivo l'abbiamo ottenuto, non ci rimane altro che impaginare. Per una corretta impaginazione, naturalmente, il dettaglio costruttivo deve essere accompagnato dalle tabelle che riportano materiali inseriti all'interno del dettaglio costruttivo, in questo caso quindi i due pacchetti. Io i pacchetti li ho già realizzati, come abbiamo detto prima, nei video tutorial precedenti, quindi ho anche le tabelle, non rimane altro che copiarle ed incorlarle. In realtà, attenzione, perché quelle tabelle erano state pensate per essere impaginate in scala 1 a 5, quindi secondo me adesso risulteranno troppo piccole, perché questo dettaglio costruttivo, essendo più grande, lo dovrò impaginare comunque in 1 a 3 e non potrò usare una scala 1 a 5, perché non c'entrerebbe. Quindi faccio scala 1 a 10, piuttosto vado a scalare e ad ingrandire le due tabelle. Faccio prima un'anteprima di stampa, le tabelle risultano leggermente piccole, non sono in realtà così piccole, però possiamo sicuramente andare ad aumentare un po' la loro dimensione. Prima mi sono accorto appunto anche del tratteggio errato nell'anteprima di stampa, quindi lo devo andare ad adattare, quindi devo andare a modificare la scala nel layout, attenzione, utilizzate il layout come riferimento, perché è quello da cui poi si esporta in pdf e poi in stampa, oppure direttamente in stampa. Vado a fare una scala di 0.20 per il tratteggio degli elementi nascosti e invece, per quanto riguarda, faccio una selezione simile per le membrane, faccio un 0.4. Per gli spessori, attenzione, consultate i video tutorial precedenti che lì sono stati elencati tutti. Per esempio la membrana ha uno spessore di 1 per quanto riguarda il layer. Perfetto, in realtà mi sono accorto che questo qui è troppo spesso perché non è sezionato, quindi è a vista. Faccio una linea apposta per questo listello e vado a cambiare lo spessore. Vediamo di nuovo l'anteprima. Ecco, sicuramente è più corretta perché gli stelli sezionati risultano più in evidenza, più spessi rispetto agli elementi a vista. Perfetto, io direi che può funzionare, l'unica cosa che manca è che ci sono le tabelle, ma non ci sono... Ecco, le tabelle innanzitutto, come abbiamo detto prima, le vado a scalare di 1.5 perché 2 mi sembra esagerato, esatto, infatti lo è, vado piuttosto a scalarle di 1.5 Scala 1.5 Vado a renderle leggermente più grandi e sicuramente più leggibili. Altra cosa, lo vado ad allineare rispetto alla fine del dettaglio costruttivo Attenzione, cosa manca ancora? Mancano, ci sono le tabelle con delle lettere, ma mancano le lettere sul dettaglio costruttivo. Sì, è vero che le troviamo sui pacchetti, ma nel momento in cui vado a consultare questa tavola trovo delle tabelle che riportano dei materiali con degli spessori e delle lettere però non ho le lettere di riferimento sul dettaglio naturalmente la tavola viene considerata illegibile perché non so quella riga lì di quella tabella a cosa si riferisce, a quale strato si riferisce naturalmente chi è del settore lo intuisce, ma chi non lo è non riuscirebbe a leggere la tavola, quindi il disegno Quindi cosa andiamo a fare adesso? Innanzitutto andiamo a fare dei riferimenti con delle scritte di testo degli elementi che abbiamo aggiunto e che non troviamo all'interno delle tabelle Io vado a copiare queste lettere qui con questi cerchi che ho utilizzato per la realizzazione delle tabelle ho isolato naturalmente il layer per la realizzazione dei pacchetti, scusate anche in questo caso si tratta di elementi pensati per una scala 1 a 5 di impaginazione quindi mi vado a scalare anche in questo caso di 1.5 vado a spostare e a ruotare questa linea con il relativo cerchio e con queste linee qui andrò a descrivere gli elementi che ho aggiunto e che non trovo nelle tabelle come la grondaia, come il travetto di gronda, come l'elemento, anzi prima del travetto di gronda anche l'elemento di chiusura che vi dicevo prima contro eventuali animali, insetti, uccelli meglio dire volatili e quelli là sono i listelli tra il travetto di gronda e la miera della copertura poi sicuramente importanti sono gli elementi di giunzione dei due pacchetti che ho aggiunto per far sì che l'unione venisse quantomeno funzionale è corretta e poi un altro elemento che ho aggiunto è la membrana della facciata, la membrana traspirante quindi vado a fare un'altra copia di questi elementi di descrizione e vado poi a modificare il test, in questo caso appunto si tratta di, scrivo membrana facciata direi che può funzionare la membrana esterna che come abbiamo visto in realtà continua anche sulla copertura tutto un unico telo anche sui teli sulle membrane verranno fatte delle lezioni diciamo apposite dedicate per approfondire quei temi lì sicuramente importanti ecco vedete come all'interno di un pacchetto, di un dettaglio ci sono così tanti materiali, così tanti temi che non è possibile trattarli all'interno di un'unica lezione o di un unico video tutorial perché ci sono appunto i vari materiali, gli strati l'isolante i vari pannelli gli elementi di giunzione metallici che sicuramente richiedono del tempo dedicato e delle lezioni dedicate solamente appunto a loro continuiamo così quindi con indicare membrana facciata elementi di giunzione li riporto solo su una riga questa qui la vado a restringere perché perché gli altri elementi li vado a prendere sulla sinistra quindi vado a fare praticamente un angolo a 90 gradi perfetto poi faccio una copia col in col li vado poi ad unire con gli elementi verticali di queste linee di indicazione dei materiali degli elementi faccio ancora la stessa cosa questo tutto per rendere veramente leggibile a chiunque il disegno e spesso chi disegna da tante cose per scontato già si capisce in realtà per chi disegna è facile capire determinate cose soprattutto per chi realizza il disegno perché l'ha fatto lui o lei quindi è facile capire che elemento è in realtà per chi non ha seguito il disegno non è così facile se non è ben indicato per chi non è del settore diventa impossibile praticamente capire di che elementi di che materiali si tratta se non sono ben specificate vado a modificare le scritte metto travetto di gronda appunto corrispondenza della linea di indicazione del travetto listelli listelli attenzione gronda poi questo qui si mette elemento di chiusura potrei aggiungere intercapedine d'aria va bene così poi metto infine grondaia perfetto quindi questi qua sono i nuovi elementi che ho indicato tramite questa indicazione utilizzando naturalmente il layer apposito che si chiama appunto quote e annotazioni questo qui può andar bene sì direi di sì vediamo come viene andiamo a vedere un'anteprima di stampa per vedere se funziona nell'impaginazione e direi di sì direi di sì direi che è leggibile adesso mancano però le lettere degli strati dei due pacchetti quindi cosa faccio in realtà vado a copiare tutte le lettere vado intanto ad isolare il layer vado a copiare tutte le lettere copia tutte le lettere dei due pacchetti visto che in questo caso devo svilupparle sul lato destro mi vado a specchiare quindi comando specchio perfetto poi anche qui mi tocca andare a scalare di 1.5 per adattarle alle scale di infaginazione di 1 a 10 e poi non mi rimane che andarle a posizionare in questo caso qui è la copertura vado a posizionarle in corrispondenza degli strati della copertura naturalmente dovrò modificarle adesso io vi mostro come modifico le prime due lettere le vado ad adattare quindi a spostare ad allungare in modo che naturalmente indicano i materiali e gli elementi corretti adesso accelero qui vi evito tutto tutto questo lavoro vi evito accelero che vado a spostare tagliare ad adattare perfetto fatto andrò a fare la stessa cosa praticamente anche per la copertura scusate per la parete quindi vado a selezionare a spostarli ecco qui ci sarebbe un po' di musica di sottofondo ma rischio che poi per motivi di copyright youtube mi blocchi il video quantomeno lo renda meno visibile dia meno visibilità quindi per adesso evito musiche di sottofondo per non rischiare anche qui vado ad adattare le lettere naturalmente devo farle corrispondere all'ordine della tabella quindi la A nel pacchetto indicava l'arice esterno quindi devo spostare il cerchio di riferimento e poi accelero come prima vi evito anche qui tutto questo lavoro perfetto però cerco di mantenere una certa linearità e ordine vado a spostare le tabelle perché quella della parete in alto quella della copertura in basso piuttosto le vado a spostare in corrispondenza della parete quindi sposto quella in alto la sposto in basso che è quella della parete in modo da averla vicina poter confrontare subito le lettere con la tabella e quella della copertura la metto in alto anche qui in modo da poter subito verificare materiali materiali degli strati e i corrispettivi millimetri perfetto direi che ci siamo andiamo a fare un'ultimo un'ultima prova di anteprima un'ultimo test però prima attenzione qui non ho più le quote totali anche qui questo si tratta soltanto di semplificare la lettura del pacchetto perché cosa succede vado a vedere questa tavola ok ho tutti i millimetri dei vari strati però non ho una quota totale come invece avevo fatto nei pacchetti piuttosto vado ad inserire un'ulteriore riga nelle tabelle con scritto totale con rispondenza delle lettere e basta aggiungere la somma delle celle dei vari spessori degli strati dobbiamo mettere i totali appunto i due totali dei due pacchetti in modo da avere veramente una visione completa del dettaglio e dei pacchetti che lo compongono quindi con gli spessori di ogni strato con il materiale di ogni strato gli spessori totali e gli elementi che ho aggiunto ai due pacchetti per realizzare il dettaglio costruttivo vi ricordo sempre di citare le fonti che utilizzate per i vostri lavori io cito la mia fonte principale dataalls.eu nella tavola vediamo un'ultima anteprima di stampa vi direi che il lavoro è completo spero sia stato tutto chiaro ragazzi e ragazze vi saluto a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti